ciao a tutti chitarra da studio mauro giuliani vi dal benvenuto sono mirco migliorini e oggi parliamo del manico della chitarra classica elemento fondamentale per il musicista che ha sempre un contatto diretto con il manico e nell'impugnarlo deve costantemente e con facilità trovare il riferimento per la giusta esecuzione della ditteggiatura su tutta la tastiera per questo motivo il manico deve essere scorrevole e senza il minimo difetto superficiale la mano del musicista deve scorrere liberamente nel cambiare le posizioni e non possono essere presenti dei difetti superficiali come bozze o avvallamenti del legno che rendano difficoltoso o irregolare il movimento della mano la chitarra classica così come la stragrande maggioranza degli strumenti musicali è soggetta a sollecitazioni meccaniche e in questo caso il manico è uno degli elementi maggiormente sollecitati quindi per costruirlo in modo corretto è necessario prendere in considerazione la nozione di resistenza meccanica e concetti come elasticità o carico di rottura per garantire stabilità e resistenza al manico i legni più adatti sono la cedrella e il mogano e come tutti i legni utilizzati in luteria non basta scegliere il giusto legno ma è fondamentale che abbiano anche il giusto taglio cioè la giusta venatura e che siano ben stagionati le giuste dimensioni la larghezza lo spessore la profilatura sono fondamentali non solo dal punto di vista meccanico è importante che il musicista trovi subito un certo feeling con il manico con le proporzioni con le dimensioni del manico deve sentirsi in sintonia nell'impugnarlo senza fatica senza tensioni e senza sforzo e ricordiamoci sempre di considerare la chitarra e in questo caso il manico non come un semplice oggetto ma come un'estensione del musicista e quindi come una parte di voi è un'estensione del musicista e quindi come un'estensione del musicista in